Altrimenti potenziali per il primo ruolo attraverso il sangue e uscita l'uomo per l'attività. Altrimenti potenziali per il primo ruolo attraverso il sangue e uscita l'uomo per l'attività. Altrimenti potenziali per il primo ruolo attraverso il sangue e uscita l'uomo per l'attività. Altrimenti potenziali per l'attività. Altrimenti potenziali per l'attività. Consideriamo una pietra angolare della cultura popolare italiana, il piccolo vademecum del giornaliero. La proiezione dei santi che è eseguita come vuole la conciliazione per i santi padroni dal sindaco, che è sempre appresso al santo. E la chiesa oggi ricorda, festeggia e celebra San Silvano, Santivo e San Teulaglio, il babbo di Toni, ma soprattutto Santa in Neretto, quindi quest'anno particolarmente venerata, evidentemente Santa Scolastica. Buongiorno! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti